Fabio a capello, girati un attimo, ti ho visto teso, è stato il suo capo a terra. Devo dire che la partita probabilmente vera è stata giocata qui da noi in questo stadio dove tutte e due le squadre volevano vincere. Un partito sentito in maniera particolare, poi in questo momento per noi era necessario quasi vincere. Un partito sentito in maniera particolare. Un partito sentito in maniera particolare. Grandi, importanti, veramente straordinari. Però dobbiamo pensare solo a noi, io non guardo mai a casa altrui e sono soddisfatto di questo pareggio. È straordinario, è stato sferico, però ripeto. Ma io guardo sempre a casa mia, sto molto attento. Ma io guardo sempre a casa mia, sto molto attento. Questa è una partita importante perché è vinta fuori casa contro un avversario diretto. No, no, io devo continuare a fare il geometra perché se mi metto a fare il giugnere probabilmente sbaglio. Bisogna mettere in evidenza che abbiamo giocato per mezz'ora in dieci e avevamo giocato anche mercoledì. Di metterli nelle posizioni in cui potessimo creare delle difficoltà. Quando ho fatto, sì, mi criticiscono. Questa è la migliore posizione? È molto importante per noi. e spero che sia la stessa performance che ci sia. Beh, questa è veramente una Ferrari, che in questo momento probabilmente è una Williams, visto il distacco che stiamo dando agli anni. Un po' da due!